I clienti della Vipa che vendono e comprano possono contare sul nostro metodo A3P Prequalifica, Preview, Preaccordo Attraverso tre procedure siamo vicini ai nostri clienti per acquistare o vendere casa In che modo? Semplice, vendi casa? Ci pensiamo noi a venderla al miglior prezzo con soli 7 appuntamenti Cambio casa? Hai paura di comprare perché non è ancora venduto a casa tua? Hai paura di vendere perché pensi di non riuscire a trovare la casa giusta? Pensiamo noi a tutto Ti garantiamo l'acquisto e la vendita Con la massima sicurezza ti faremo fare la doppia operazione senza nessun rischio Ci tengo a sottolineare che il metodo A3P applicato alle procedure Vi garantirà, come ho detto prima, a non sprecare il vostro tempo prezioso Soprattutto per gli aspetti burocratici e tecnici Saremo noi a fare tutto, a tutelarvi in massima sicurezza Accompagnandovi fino al rogito notarile di compravendita